Buongiorno, la vedo bene oggi, manca ancora da montare tutta la baratta, più tardi Ci sono le signore che arrivano sempre per prime, buongiorno Buongiorno Ma quelle scarpe sono state fatte su misura? No, ho detto se sono state fatte fare su misura, apposta Figurati che sei più di me Buongiorno Ciao 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 caro, tutto bene? Tutto bene Perfetto Oggi fai il magistrato, no? Mi raccomando, un bravo giudice Sì che sei bravo Sì che sei bravo No, lo so che sei bravo Dai Ciao 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 Ciao